Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di investire consapevole oggi vorrei fare con voi una carrellata per spiegarvi quali sono i 5 modi per guadagnare con le criptovalute infatti andremo a guardare esattamente qual è il ventaglio delle migliori opportunità che ci vengono offerte per andare a guadagnare in questo settore ma prima di iniziare come sempre ragazzi vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di youtube e per aiutarmi a far crescere il canale è quello di lasciare un bel like a questo video iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire quali sono questi modi innanzitutto il primo modo è sicuramente quello dell'acquisto e della detenzione o come viene chiamata in inglese hodl forse infatti il modo più comune per fare soldi con la criptovaluta è investire e detenere noto anche come hodl all'interno della comunità cripto quindi se già siete all'interno della comunità conoscerete questo termine altrimenti se ci entrate sicuramente ne verrete a conoscenza simile a quello che fanno molti investitori all'interno del mercato azionario può investire in alcune criptovalute dopo ricerche approfondite chiaramente che è quello che vi raccomando sempre tenerle fino a quando l'azione del prezzo è ben al di sopra del tuo ordine di acquisto iniziale e venderle con profitto alcune delle monete che puoi acquistare ad esempio includono bitcoin litecoin ethereum e ripple cardano e molte altre altcoin chiaramente io non ve ne consiglio nessuna in particolare perché dovete andare a studiarvele autonomamente chiaramente anche facendovi un'idea in base a quello che vi faccio vedere io nei video ma poi comunque avete necessità di studiare per conto vostro per capire qual è il progetto che fa al caso vostro tuttavia fate attenzione alle monete che acquistate infatti prima di acquistare un token conduci ricerche approfondite sulla redditività della valuta e sulle sue implicazioni a lungo termine sul mercato alcune domande che potresti voler porti sono da quanto tempo esiste il token quali sono i suoi casi d'uso ovvero è generico o specifico credi sinceramente in ciò che il progetto sta facendo e sta cercando di realizzare chiaramente per rispondere a queste domande dovresti cercare progetti con casi d'uso nel mondo reale e quelli che esistono da un po di tempo asset come bitcoin ed ethereum esistono da diversi anni ed è meno probabile che continuino a crescere oserei dire a ritmi elevati però ci danno più sicurezza perché sono già presenti da tanti anni e quindi siamo sicuri che non andranno a zero da un momento all'altro tuttavia non devi limitarti ai soli token nella top 20 di coin market cap ci sono migliaia di altcoin di media e bassa capitalizzazione che hanno incredibili oscillazioni di prezzo da cui puoi guadagnare una fortuna chiaramente se decidi di andare ad investire in questo tipo di altcoin dovresti stare ancora più attento perché le oscillazioni sono tanto in positivo quanto in negativo vuoi distribuire il rischio di questa strategia di investimento mescola il tuo portafoglio di criptovalute in vari scenari di casi d'uso come una moneta di sicurezza una moneta per la privacy una moneta per social network eccetera che hanno la promessa di aumentare valore non fare affidamento solo su gettoni popolari se vuoi il miglior rapporto qualità prezzo quindi dovremmo sicuramente andare a differenziare il nostro portafoglio distribuendo sicuramente tra monete più capitalizzate e una parte in monete con medio bassa capitalizzazione il secondo modo per guadagnare con le criptovalute è quello dei dividendi sai che puoi guadagnare un reddito passivo dal tuo investimento in criptovalute similmente a ciò che accade nei mercati azionari ci sono società di criptovalute che ti pagheranno dividendi per mantenere il loro token per un periodo specificato esempi di monete che ti pagano dividendi includono kucoin nio btmx cos comodo e tante altre rispetto all'interesse del 2 3 per cento che paga oggi giorno una banca la maggior parte di queste monete paga dividendi a un tasso del 5 10 per cento annuo se ci pensi investire in tali progetti ti farà guadagnare di più rispetto ad avere bloccati i tuoi soldi in banca chiaramente parliamo del 2 3 per cento in banca su alcune tipologie di prodotti e quindi già ci stiamo andando a vincolare il nostro denaro per un per un tempo medio lungo invece con i dividendi sulle criptovalute possiamo disinvestire in qualsiasi momento tuttavia come qualsiasi investimento fai attenzione e acquista solo progetti che hai studiato a fondo e di cui ti fidi il terzo modo per guadagnare con le criptovalute ragazzi è il trading giornaliero ovvero il cosiddetto acquista basso vendi alto il day trading infatti è uno dei modi più gratificanti per fare soldi nello spazio della blockchain a differenza della strategia di acquisto e mantenimento il cosiddetto odel che abbiamo visto al punto 1 il day trading comporta la detenzione di un asset criptografico per un breve lasso di tempo e la sua vendita quando il valore aumenta questo periodo ragazzi può variare da minuti ore o anche diversi giorni a seconda del tipo di token il successo del day trading richiede di tenere d'occhio il mercato per diventare un day trader di successo devi prima affinare le tue capacità analitiche tecniche chiaramente questo ragazzi non può prescindere dallo studio approfondito di tutti i settori di mercato all'interno dei quali si va ad operare proprio perché non è una scommessa ma il trading giornaliero diventa un secondo lavoro a tutti gli effetti e quindi va studiato attentamente e vanno compresi tutti i meccanismi che ne regolano il funzionamento se sei un principiante nello spazio criptografico questo metodo non fa per te tuttavia se hai analizzato in precedenza i mercati azionari il day trading potrebbe essere piuttosto redditizio per te una parola di cautela se stai cercando uno schema per arricchirti rapidamente il day trading non fa per te se non hai alcuna esperienza commerciale questo sarà più uno schema veloce che scadente che altro quindi attenzione ragazzi perché questo è soltanto per gente più esperta quarto modo per guadagnare con le criptovalute e questo anche per i principianti è lo staking proof of stake con l'acronimo pos noto anche come staking è uno dei modi migliori per guadagnare un reddito semipassivo nello spazio criptografico il mining infatti sta diventando sempre meno redditizio a causa dell'eccessivo uso di energia elettrica che ne segue e quindi c'è una dispersione a livello energetico in futuro secondo me lo staking continuerà a crescere sempre di più ma che cos'è lo staking lo staking è un altro metodo per convalidare e registrare le transazioni blockchain in un sistema proof of stake i possessori di monete mettono le loro monete in un portafoglio collegato alla blockchain queste monete vengono quindi utilizzate per convalidare le transazioni e creare nuovi blocchi ma come si guadagna dallo staking ragazzi lo staking funziona allo stesso modo di un conto deposito fisso invece di ricevere interessi come faresti con un conto di deposito fisso guadagni monete aggiuntive come ricompensa per essere un falsario cioè utenti che convalidano le transazioni nella blockchain proof of stake tuttavia lo staking è disponibile solo nelle monete che hanno un sistema proof of stake esempi di queste monete includono cardano comodo dopo l'aggiornamento di ethereum alla nuova versione 2.0 sarà ad esempio possibile fare staking anche di ethereum con lo staking non devi preoccuparti dei prezzi elevati dell'energia e dell'elevato capitale necessario per avviare un'attività di mining redditizia tutto quello che devi fare è assicurarti che il tuo portafogli sia sempre connesso alla blockchain il quinto e ultimo metodo ragazzi che volevo farvi presente oggi è l'arbitraggio l'arbitraggio è il processo di acquisto di un bene a un prezzo inferiore per poi venderlo con un profitto su una piattaforma diversa se sei nello spazio delle criptovalute da un po probabilmente hai osservato variazioni di prezzo tra diversi exchange perché non approfittare di queste variazioni di prezzo per ottenere un profitto dalle tue risorse tutto quello che devi fare in questo caso è acquistare una moneta su uno scambio più economico trasferirla su un altro portafoglio quindi venderla su una piattaforma in cui la valuta viene scambiata a un prezzo più alto tuttavia devi essere bravo nella ricerca e anche veloce nell'eseguire operazioni per garantire margini di profitto elevati esistono diversi software che possono aiutarti a individuare rapidamente queste opportunità di arbitraggio che chiaramente sono ben ben ricercabili online chiaramente anche questo punto il quinto ovvero l'arbitraggio non è per tutti è solo per chi lo fa come lavoro perché andare a fare arbitraggio significa strutturarsi in una certa maniera se siete dei principianti probabilmente i metodi migliori per voi saranno il primo il secondo e il quarto il terzo il quinto sono per persone che sono più esperte detto questo ragazzi io come sempre vi ricordo che non sono un consulente finanziario quindi vi raccomando sempre di fare le vostre personali analisi prima di andare ad investire in questo settore perché è fondamentale per avere una conoscenza di ciò che state andando a fare se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciare un bel commento lasciate un bel like iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti io come sempre ragazzi vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti